ed eccoci qua carissimi amici dai sono anche giunto abbastanza in tempo per fortuna sono un po emozionato perché ci sono pezzi di storia tracce di storia per fortuna sono riuscito questa volta ad entrare mi hanno appunto dato la possibilità di fare questo filmato e per me questo è un bellissimo regalo soprattutto oggi che è l'anniversario del mio matrimonio sono 15 anni di matrimonio e mai avrei detto che 15 anni fa sarei venuto con questa zona guardate qua carissimi amici amanti del movimento terra siamo qua in un'impresa storica qua nelle zone del trentino insomma guardate qua carissimi amici cosa vi faccio vedere lo dedico qua per tutti i miei amici del movimento terra a me viene sempre mente subito filippo l'amico di tante avventure costantino ruota folle guardate qua carissimi amici godetevi questi volvo bm ditemi voi se non è spettacolo insomma ripeto sono qua emozionato perché tutto in un colpo a vedermi tutta questa storia poterla toccare con le mie mani tutt'altra cosa carissimi amici che scaricare foto guardate qua carissimi amici il marvin ha fatto veramente un bel colpaccio per fortuna mi hanno lasciato entrare mi piange il cuore sapendo tutti i vari camion che hanno demolito da da un esagamma un 6 43 e 6 82 è veramente un peccato non essere c'è se lo sapevo ragazzi meglio dai non parlare insomma godiamoci questi mezzi che restano qua carissimi amici davvero fantastico sono qua in mezzo a questi mezzi che hanno fatto la storia che per loro sono ormai macchine non più operative in pensione sono considerati dei rotami ma al marvin per il marvin sono pezzi e tracce di storia che insomma dobbiamo lasciare qua per le generazioni future davvero fantastico qua ringraziamo appunto anche l'impresa dai che ha capito la mia passione mi ha lasciato appunto documentare per la storia carissimi amici guardate il marvin vi sta dando un piccolo assaggio di quello che è rimasto ed eccoci qua carissimi amici ripeto vi saluto sono qua ancora emozionato vedendomi tutti questi mezzi poi poi fra l'altro qua sapere che 15 anni fa stavo al ristorante a festeggiare un matrimonio sono qua in mezzo a ruspe camion cingolati vari insomma un'emozione pazzesca carissimi amici qua il marvin ha già fatto un piccolo botto una piccola impresa anche essere penetrato in questa zona insomma ringraziamo qua tutti quanti sono anche in particolare stefano che ha capito subito la mia passione e mi ha portato qua in questa zona carissimi amici qua il marvin vi saluta e appunto vi do appuntamento ai prossimi report in questa zona sono abbastanza ricchi o le schede le schede memoria le ho portate dietro documentiamo noi intanto grazie della vostra attenzione e a presto grazie a tutti